In principio era il silenzio. Sara ha una certa riluttanza imparare a parlare ed è stata così testarda col suo predecessore che non credo proprio che con lei possa fare diversamente. Tu puoi diventare un insegnante, lascia che ti aiuti a imparare a parlare, a leggere le labbra, no? Sara non è ritardata, è in grado di imparare qualsiasi cosa. E allora io essendo! È quello che sto cercando di fare! Perché mi sei mancata? Perché si sente la mancanza di qualcuno? Sono felice di conoscerla! Ah ma anch'io sono felice di conoscerla! Fa finta che ce ne sono! Lidia, cos'è questo rumore? Ha il mio parecchio acrusco! Quanto sorriere ho piccia! Ha il suono della felicità! Lo so che ho sposato te e non ho sposato lei! Lo so, dai! Ma io farò in modo che sua moglie e l'amico Orin mi trascinino in tribunale! Non ha detto che solo per Calè vale a cambiarsi! Noi vogliamo essere cambiati! Il vero motivo della rabbia tua e di Orin è che siete sordi! Mi piace la mia voce! Sono bella! E' il suo amore! Io voglio aiutarvi Orin! Tu devi credermi! No signorice! E lei ti deve credere! Ciao!